buongiorno abbiamo tutti un profondo bisogno di amore abbiamo tutti un profondo bisogno di sentirci amati e per fare questo dobbiamo necessariamente passare attraverso l'amore per gli altri il punto è che questa volta confondiamo le due cose l'amore per gli altri diventa amore per noi stessi diventa un buttare addosso agli altri quest'amore che stiamo cercando per noi capita che sei in giro per lavoro e ascolti una conversazione di un tassista che ti sta portando dall'albergo alla tua destinazione con un amico e già il fatto che in presenza di un cliente si lascia andare a queste confidenze è un'osservazione da prendere in qualche modo in esame ma lo faremo in qualche altro caffè racconta di una visita a una signora che evidentemente non è sua moglie ma non mi pare che sia sposato che continua a fargli da mangiare fargli da mangiare cose da portare via e si lamentava un po di questo perché ho provato a dirglielo più volte che in questo modo imbarazza che in questo modo mi mette in difficoltà ma lei insiste lei vuol farlo lei dice che lo fa per me e in realtà mi sta facendo del male ora io prendo questa situazione come esempio non so nulla di questa vicenda sono sceso da quel taxi e non mi sono neanche posto la domanda di capire cosa stesse succedendo un pensiero per loro una preghiera d'accordo questo fa parte di quello che dovrebbe essere il dovere di ognuno di noi ma fatto questo nient'altro di più ragioniamo però sui fatti che ci sono dietro in trasparenza di questa storia quante volte ci comportiamo così anche noi facciamo per gli altri quello che ci piace fare per loro non quello che piace a loro non quello che serve a loro non quello che loro interpretano come modalità per trasmettere loro il nostro amore raccontiamo e facciamo soltanto quello che ci rende felici quello che per noi sembra un gesto d'amore perché ci soddisfa perché ci fa sentire buoni perché ci fa sentire a posto ma che in realtà non trasmette per nulla amore buona giornata grazie a tutti